Io credo che l'ambito delle media art che da tanto tempo in Italia ha bisogno di riconoscimento, da tanto tempo, calcolando che non abbiamo piani di preservazione delle opere, non ci sono musei che se ne occupano, non ci sono sezioni, eccetera, eccetera, non ci sono punti di riferimento, stia iniziando ad avere ciò che merita e questo festival nella dimostrazione, nel senso che il nostro intento era proprio quello di costruire un punto di riferimento in Italia su queste tematiche. Ci stiamo riuscendo, siamo molto contenti, sia con la partecipazione dei maggiori esperti internazionali come Antonio Montadas, Sigrid Zilinski, piuttosto che direttori artistici come Stoker e Krajewski, The Arts Electronica, Media Art Biennale di Wrocław, sia con un'esposizione all'interno del museo per ora tra i più importanti in Italia come il Maxi, dedicata esattamente ed esplicitamente a queste tematiche, e sia anche con tutta una serie di progetti che stiamo attivando anche con gli artisti. Il nostro intento era proprio questo, costruire un evento dinamico che riuscisse a essere un punto di riferimento per queste tematiche e riuscisse a portare le eccellenze italiane all'estero e le eccellenze estere in Italia, solo con lo scambio può esserci qualcosa. Devo dire che adesso la partecipazione è stata molto più di quella che ci aspettavamo e quindi noi ovviamente ci aspettavamo tanta partecipazione, però questa è stata ancora di più dimostrato insomma da tutte le persone che ci sono state con noi ieri, sia la tavola rotonda della mattina sia la sera con l'opening della mostra.